Una festa dello sport, un appuntamento divenuto ormai fisso per ripercorrere i tanti successi conquistati dagli atleti ruvesi, non solo a livello locale ma nel panorama nazionale. A trionfare nella tredicesima edizione del Gran Galà dello Sport a Ruvo di Puglia è stato il ciclista Giacomo Scardigno. Vittorioso del campionato di Iron Bike, l'atleta ruvese nel 2017 ha tagliato importanti traguardi e ha collezionato tanti successi. Sei vittorie sul circuito Iron Bike, quello che ho vinto, la vittoria della Mediofondo del Vulture a Rio Nero, un ottimo piazzamento alla Dolomiti Superbike in Trentino. È una grandissima emozione, tra l'altro non me l'aspettavo, so che è un premio che cercano un po' tutti gli sportivi ruvesi. Il Gran Galà dello Sport è una vetrina per presentare i successi conseguiti dai ruvesi, ma è anche un momento per i tanti accorsi al Palo Colombo per lasciarsi trasportare dalle musiche, dalle danze e dalle coreografie portate in scena dai maestri e dagli allievi delle scuole di ballo di Vivo Latino, della Hollywood Dance e dell'Accademia dei Talenti. Applausi e consensi anche nel corso delle esibizioni di pattinaggio artistico a rotella della Roller Rainbow, associazione sportiva che si sta sempre più affermando anche a livello nazionale. La Serata delle Stelle dello Sport, organizzata da Rocco Pelicani e Michele Pelicani dallo Juventus Club Fortunato, è una manifestazione che ormai da 13 anni chiama a raccolta tanti ruvesi. L'idea è nata proprio per far conoscere le associazioni sportive di Ruvo, di metterle insieme e noi di dare l'opportunità di conoscere gli atleti ruvesi che durante l'anno si distinguono nelle loro discipline. I presupposti sono quelli di continuare, già avere 13 anni alle spalle è un sinonimo perfetto, significa che la nostra manifestazione è una manifestazione longeva che continuerà sicuramente.